Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi entriamo nel vivo della nostra guida all'asta e lo facciamo parlando di difensori low cost. Si tratta di difensori che acquistiamo a pochissimo, una manciata di crediti e qualcuno di questi anche ad un credito. E a fronte di una spesa così bassa possono avere una resa davvero niente male. Prima però di fare i nomi ti invito ad iscriverti al canale se ancora non sei iscritto e attiva anche la campanellina delle notifiche perché solo così non ti perderai mai nessun contenuto a tema asta del fantacalcio. Lascia anche un like come forma di apprezzamento e supporto di questo video e di tutto il lavoro che faccio quotidianamente. Per voi ricordo che gli appuntamenti del canale sono appuntamenti abbastanza fissi. Almeno un video al giorno e quel almeno un video consiste nel video delle ore 11 e 30. Poi in alcuni giorni c'è anche una seconda pubblicazione alle ore 17. E mi trovate da lunedì al venerdì salvo casi eccezionali ogni giorno quindi in live alle ore 18 e 30. Ricordo che sono anche aperti gli abbonamenti al canale e tanti vantaggi tra cui ad esempio partiamo da livello base da 1,99€ che vi permette di avere le mie fasce costantemente aggiornate durante tutto il corso del calcio mercato. O se volete fare un fantacalcio ad asta con me serve l'abbonamento livello pro da 3,99€ al mese e mantenerlo per tutta la stagione. E a proposito di aste riservate alle abbonate abbiamo già fissato la prima data e è rimasto un solo posto disponibile. La data è il 7 agosto se ti interessa quindi conviene prenotare il tuo posto sin da ora. O comunque poi replicheremo con un'altra asta a settembre. E anche in questo caso comunque ti conviene prenotare il tuo posto. Ricordo poi che le grafiche che troveremo all'interno di questo video sono offerte da Fantalab il tool per l'asta perfetta. Ve lo consiglio, vi lascio il link per registrarvi gratuitamente in descrizione. Se vi registrate attraverso il mio link otterrete 5€ di sconto qualora decideste di fare l'abbonamento annuale del premium a soli 9,99€. Cifra molto bassa, tanti vantaggi comprende questo premium tra cui le mie fasce, le mie strategie da utilizzare durante l'asta e un tool per l'asta. Oltre che tantissime altre funzioni e curiosità utili per noi fantalianatori. Ti lascio il link in descrizione. Ovviamente non dimenticate di lasciare anche un bel commento, fatemi sapere la vostra su questi nomi low cost. Ci punterete o avete individuato altri profili che possono costare allo stesso modo? Quindi altri profili low cost che possono avere un rendimento anche migliore? Partiamo adesso a fare i nomi. Il primo nome è Armando Izzo del Monza. Il centrale difensivo del club Brianzolo è stato riscattato in estate dal Torino. Ed è ormai un perno nel progetto tecnico di Palladino. È un titolarissimo. Il suo posto al centro-destra nella difesa a tre della formazione Lombarda non è in discussione. Ormai Izzo è un giocatore che noi fantalianatori conosciamo bene, sappiamo cosa ci può dare e cosa non ci può dare. È un profilo chiave e affidabile per la media voto. Tende a portare poche insufficienze e porta anche diversi sei e mezzo durante l'anno. Però è un personaggio abbastanza fumantino. Non è uno di quei giocatori che tira indietro la gamba, quindi non è immune alle ammunizioni. È altrettanto vero però che è abile nel gioco aereo e quindi da sviluppi di palla inattiva può farsi notare con le sue inzuccate. E se va bene, due, tre gol, può farli tranquillamente. Classico, quinto, sesto slot a seconda del numero dei partecipanti della Lega che ci permette di completare il nostro reparto senza eccederne la spesa perché sono sufficienti davvero pochi crediti per acquistarlo. Secondo profilo low cost è quello di John Lucumy del Bologna. Il centrale difensivo colombiano ha saputo imporsi e facendolo con successo nella retroguardia rosso-blu imponendosi sin da subito come un titolarissimo e rivelandosi fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio. Lo scorso anno Tiago Motta non ha valorizzato appieno i suoi difensori centrali motivo per il quale voglio capire se può esserci un effettivo miglioramento in termini di rendimento perché lo scorso anno si è segnalato Lucumy per qualche insufficienza di troppo non riuscendo nemmeno ad incidere in zona bonus. Di certo chi ruba l'occhio in questo momento in casa Bologna sono altri difensori come Posh e Bocomà che sono tra l'altro due abili saltatori sui piazzati ma se cercate un titolarissimo senza svenarvi Lucumy è il profilo che fa per voi. Il voto quantomeno lo garantisce poi quello che arriva in più da un sesto slot come lui è solo un extra. Il terzo nome è quello di Sebastiano Luperto centrale difensivo dell'Empoli titolarissimo tra le fila dei Toscani dopo l'esperienza da riserva con il Napoli ha dimostrato di poter ambire da professionista ad un posto da titolare in squadre di medio-bassa classifica e alla corte di Zanetti si è rivelato essere imprescindibile per i suoi equilibri difensivi. È un giocatore roccioso molto abile nel gioco aereo e a supporto di ciò è importante segnalare i suoi 0,5 tiri di media partita che gli permettono quindi di rendersi pericoloso in occasione di depiazzati ed è proprio sui loro sviluppi in cui può salire sugli scudi a livello fantacalcistico 2-3 gol può anche segnarli ma al tempo stesso occorre considerare che resta pur sempre un sesto slot che di base non parte per essere ruotato stabilmente nelle nostre rotazioni della difesa e dunque gestirlo al fantacalcio può non essere facilissimo perché è il classico nome da piazzare in panchina a copertura dei titolari ma allo stesso tempo bisogna fare i conti con la possibilità di perdere i suoi bonus e i suoi voti migliori a netto di ciò se si è consapevoli che non è propriamente un protagonista per la nostra rosa al fantacalcio se viene acquistata a pochi crediti può tornarci molto molto utile e rendere effettivamente per quello che è stato pagato quarto difensore altro difensore centrale parliamo di Manuel Perez dell'Udinese il centrale difensivo argentino si è imposto ad Udine dove si è preso il posto e non lo ha praticamente mai mollato sicuramente non è un giocatore che va a tirare indietro la gamba quindi non è immune nemmeno lui ai cartellini che possono essere parecchi ma spicca soprattutto per la sua duttilità infatti può giocare realmente in qualunque posizione della difesa dal difensore centrale al centro fino all'esterno di centrocampo a prescindere da ciò è un titolare fisso che seppur non spicchi particolarmente nel gioco aereo sa rendersi comunque pericoloso uno o due gol li può comunque realizzare anche se in campo c'è gente più brave di lui sotto questo punto di vista come ad esempio Bijol è un valido quinto slot che può essere protagonista nelle rotazioni della nostra difesa e in base al calendario può essere schierato quando pensiamo non tradisca magari soprattutto in partite più abbordabile e regalare dei bei voti ovviamente bisogna anche essere consapevoli che non sarà sempre così soprattutto nelle gare in cui l'udinese andrà in difficoltà in queste circostanze l'insufficienza è inevitabile ma per un giocatore che va preso a pochi crediti entro l'1% del proprio budget è un rischio calcolato che si può tranquillamente sopportare soprattutto se si riesce a comporre un reparto difensivo ben assortito quinto e ultimo difensore low cost Jeremy Tolian terzino destro del Sassuolo nonostante si tratti di un giocatore che lo scorso anno sia riuscito in una stagione non propriamente facile a realizzare 0,71 passaggi chiave di media partita dato in linea con le passate stagioni è opportuno considerare che non è un profilo molto appetibile al fantacalcio visto che storicamente in zona bonus non ha mai inciso tantissimo non è dunque un profilo da cui dobbiamo attenderci un super rendimento quinto slot garantisce voto con certezza ma la tua bonus 0 garanzie se va bene può regalare 1-2 gol e 3-4 assist ma è difficile che possa farlo spesso infatti da questo punto di vista ha deluso anzi un bottino del genere per lui può essere addirittura considerato un'eccezione può essere un acquisto che può aver senso solo se è fatto a pochi crediti e dopo l'ultima stagione può essere addirittura preso ad un credito quantomeno il voto lo garantisce se schierato nelle partite giuste può portarvi qualche timida soddisfazione ma non attendetevi obbligatoriamente particolare exploit perché resta pur sempre un difensore low cost bene ragazzi per oggi è tutto il video finisce qui ma non termina la nostra guida all'asta del fantacalcio edizione 2023-2024 e vi aspetto già domani con un nuovo ed imperdibile contenuto a tema low cost ciao a tutti grazie a tutti